Eccoci, buonasera, il telegiornale partirà con un nuovo elemento di forte conflittualità all'interno della maggioranza. Che cos'è? È quello della scuola, ma non su quando e come tornare, fare gli esami, sviluppare le lezioni a distanza, no, qui si parla di assunzioni, 32 mila assunzioni vanno fatte e secondo la ministra Azzolina, che è del Movimento 5 Stelle e che è appoggiata in questa battaglia da Italia Viva e quindi si crea un'inedita intesa, vorrebbe che venissero scelti per concorso, mentre invece da parte del PD e di Leu con forza si chiede che si rispettino i titoli, i diritti, le attese, le aspettative maturate dai precari. Sono due concezioni diverse, la Azzolina la motiva, la sua scelta con la necessità, soprattutto nella nuova fase, di avere degli insegnanti che dimostrino la loro preparazione anche sui terreni nuovi della didattica attraverso il web e non soltanto. Mentre appunto per il PD e anche per la verità, per le organizzazioni sindacali della scuola bisogna prima sanare quello che viene definita un'ingiustizia. Su questo da almeno una settimana si cercava una composizione sino a quando non si è arrivati sull'orlo della rottura e adesso ha un vertice che è in corso questa sera a Palazzo Chigi con lo stesso Conte. Come vedremo però il governo ha schivato un'altra insidia. Ieri ve ne parlavamo le proteste di alcune regioni a varia guida politica dal Veneto alla Campania per l'assenza nel decreto rilancio di fondi per tutte le zone ex zone rosse. Ebbene ci sarà una modifica e nel decreto entreranno fondi per tutte le zone. Generalmente la politica italiana dopo le dure scene di ieri mattina alla Camera sembra cercare un punto di equilibrio e di minore risosità. Si parla anche della possibilità che non ci sia quella manifestazione del 2 giugno non c'è peraltro la parata ufficiale e che si vada sostanzialmente a un confronto più fattivo tra le varie anime del Parlamento. Però bisogna anche dire che la giornata è importante perché l'Istituto Superiore di Sanità dice che il famoso R con 0, insomma che il contagio è in tutte le regioni sotto controllo. C'è un'anomalia in Val d'Aosta ma riguarda ovviamente l'esiguo numero di abitanti e di casi che fa sballare un po' sopra uno ma sono tutti nettamente sotto l'uno una persona per ogni possibilità di contagiare e quindi secondo il professor Brusaferro abbiamo imboccato decisamente la strada che porta verso un'esperienza di nuova normalità chiamiamola così. Ma nel momento in cui il mondo intero esce gradualmente dal coprifuoco riscopre purtroppo elementi di tensione molto forti. Riguardano ad esempio Hong Kong che la Cina vorrebbe sostanzialmente liberare la parola, il verbo, è ironico dalle sue anomalie e la possibilità di manifestare le dimostrazioni, le proteste, la stessa autonomia. C'è un alto là internazionale soprattutto degli Stati Uniti ma Pechino sembra pronta a usare il pugno di ferro. E poi tra Iran e Israele la tensione al più alto livello da anni a questa parte con Kamenei, la guida spirituale della Repubblica Islamica Iraniana che dice che Israele, il sionismo, è un virus da estirpare. Dalle parole i fatti questo rischio da Israele ovviamente si ribatte con analoga durezza. Ma avremo il tempo anche per salutare un gentiluomo del calcio che se ne è andato, Gigi Simoni. 30 secondi i titoli. In corso un teso vertice a Palazzo Chigi sulla scuola, fronte di scontro nuovo della maggioranza, posizioni opposte sulle modalità di assunzione di 32 mila nuovi docenti. La ministra Azzolina, appoggiata dal suo Movimento 5 Stelle da Italia Viva, vuole un concorso. E mentre invece per il PD, liberi e uguali, bastano i titoli maturati. La ministra insiste sul merito e polemizza perché ci sono esami ovunque nella pubblica amministrazione e nella scuola no. Marcucci del PD comprende le ragioni sindacati che pensano a uno sciopero. Conte sta tentando una mediazione. Dopo le proteste di alcune regioni, Veneto e Campania, innanzitutto il governo ha cambiato rotta. Sarà presentato un emendamento al decreto rilancio che è annunciato dai deputati della maggioranza per garantire fondi a tutti i comuni di zone rosse colpite dall'emergenza Covid. È una questione di equità, promette Conte. Il Palazzo Chigi fa sapere che gli aiuti saranno superiori ai 200 milioni di euro inizialmente previsti. È l'inizio di prove di dialogo dopo il test a coda di ieri mattina alla Camera? L'indice di riproduzione del contagio nel tempo. R-T è inferiore a 1 in tutta Italia, tranne che in Val d'Aosta. Spiega il Presidente dell'Istituto di Sanità Brusaferro. È un dato sensibile, può cambiare. Serve a monitorare le possibili ripercussioni sul sistema sanitario nazionale. Ma intanto è un dato da incorniciare. Conosceremo gli effetti delle riaperture tra una settimana. Il virus continua a circolare e non si può escludere a un aumento dei contagi. Anche se ci sono molti asintomatici. E uscendo dalla pandemia, il mondo ritrova due crisi internazionali che si sono a loro volta aggravate. In Iran, l'Ayatollah Khamenei ha definito Israele un cancro da estirpare. Aggiungendo di essere pronto a armare i palestinesi. Immediata la replica israeliana. Chi vuole distruggersi sarà distrutto. Si alzano anche e di molto i toni riguardo alla questione di Hong Kong. Che la Cina vorrebbe di fatto portare alle sue stesse leggi. Togliendole l'autonomia e il rischio di manifestazioni per la democrazia. Altolah dagli Stati Uniti e non solo. È morto a 81 anni Gigi Simone. Un allenatore mite. Un papà per molti dei suoi ragazzi. Nei 30 anni d'allenatore il successo più importante. La Coppa UEFA del 98 con l'Inter del fenomeno Ronaldo. Ma fu proprio poco dopo che visse la più grande delusione. Ma la verità vera è che era un gentiluomo. E anche per questo, per la sua mitezza, forse non ha avuto dal calcio tutto quello che avrebbe meritato. Buonasera, in corso a Palazzo Chigi, un vertice sulla scuola. Ma qui non si parla di lezioni a distanza, di videoconferenze, di esami di maturità e della prossima stagione, il prossimo anno scolastico, quando comincerà i temi che tanto abbiamo affrontato nei giorni caldi, più caldi del coronavirus. C'è un'altra vicenda. Da settembre ci vogliono 32 mila insegnanti in più. E secondo la Ministra Azzolina vanno selezionati per concorso. Secondo il Partito Democratico, che aveva già cominciato a muovere le sue armate, presentando in Parlamento una proposta di legge diversa da quella della Ministra, ci vogliono invece in qualche modo selezioni per titoli, salvaguardando diritti pregressi tra i precari. PD e Liberi uguali sono su questa posizione, 5 Stelle e Italia Viva su quella della Ministra. Si è tentato in queste settimane di far conciliare posizioni che evidentemente sono molto diverse, non ci si sono riusciti. Ieri sera si doveva tenere un vertice, è saltato, si doveva tenere oggi pomeriggio, è saltato ancora. È iniziato poche decine di minuti fa. È la scuola il nuovo fronte di scontro interno alla maggioranza, non la data di riapertura e nemmeno le modalità delle elezioni, ma l'assunzione di 32 mila nuovi insegnanti. Tutti d'accordo nel ritenerli fondamentali per ripartire in sicurezza a settembre. Il problema riguarda però la modalità dell'assunzione. Per concorso la linea della Ministra Azzolina, sostenuta dal suo partito, i 5 Stelle, ma anche dai Renziani di Italia Viva. In base ai titoli, invece, per il resto dello schieramento di maggioranza, quindi PD e LEU. Serve una prova meritocratica, insiste la Ministra, che esclude di essere nel mirino degli alleati che punterebbero al suo ministero in un eventuale mini rimpasto estivo, mentre il blog delle 5 Stelle attacca i sindacati. Arrivano addirittura a paventare uno sciopero in un momento delicato e complicato come questo. Massimo rispetto per tutti, ma è il momento di guardarsi in faccia e trovare soluzioni, il messaggio durissimo. Con i sindacati abbiamo un obiettivo comune, ma i concorsi vanno avanti in tutta la pubblica amministrazione e nell'università. Perché per la scuola no la domanda polemica? Anche della Ministra, che non convince però il PD, pronto addirittura a spalleggiare i sindacati in una protesta contro il governo. In questa situazione di emergenza e con tutte le difficoltà che sta registrando la scuola, sono comprensibili le ragioni che stanno convincendo i sindacati a indire uno sciopero l'avvertimento del capogruppo al Senato Marcucci. Con Nicola Fratoianni, di sinistra italiana, che invece boccia il possibile ricorso a un concorso semplificato. Merito non è quiz a crocette le sue parole. Fino ad ora in commissione ogni tentativo di mediazione non ha avuto alcun risultato. Oggi alle 19.20 è iniziato il vertice di maggioranza, previsto 24 ore fa, ma poi rinviato all'ultimo. Al Presidente del Consiglio Conte il compito non facile di mediare. I tempi per la maggioranza sono molto stretti. Lunedì pomeriggio al Senato in commissione è previsto l'inizio del voto sugli emendamenti al decreto scuola. Senza un accordo il governo rischia di andare sotto. È una materia molto difficile ed è un problema che riguarda in realtà milioni di famiglie, non soltanto le 32.000 famiglie di chi potrebbe essere assunto come insegnante. È giusto pensarla così, cioè bisogna sanare la situazione di chi attende un posto fisso o la cosa più importante è spostare l'attenzione sui bambini, sui ragazzini, sui giovani che devono avere degli insegnanti al passo con le nuove sfide che sono anche determinate purtroppo dalla pandemia e dalle sue conseguenze con il lavoro a distanza, con l'uso del web e delle nuove tecnologie. Non è una domanda retorica. Sono ben presenti tutte e due queste istanze, queste esigenze e questi diritti. Ma evidentemente non si riesce a farli combaciare, almeno per ora. Invece dalla politica stessa e dalle leggi arriva in qualche modo una schiarita in quello che è stato un altro contenzioso di cui vi abbiamo parlato ieri. Le regioni, due regioni soprattutto, Veneto e Campania, protestavano con durezza. Addirittura il governatore Veneto Zai ha detto che il decreto così finisce nel cestino per l'assenza di fondi nel decreto rilancio per le ex zone rosse. Non sarà più così. Dietro front, i comuni di tutte le zone rosse, non solo di quelle di Lombardia ed Emilia Romagna, potranno accedere ai fondi previsti dal decreto rilancio. Un emendamento della maggioranza dovrebbe così chiudere l'ultimo sconto tra governo e regioni innescato da una modifica in extremis all'articolo 112 del testo che aveva limitato l'intervento all'ambito lombardo ed emiliano romagnolo. Si tornerà alla formulazione originaria del decreto. Una proposta di modifica del testo, firmata da esponenti di PD, Italia Viva e Leu, è già stata annunciata per ragioni di equità e lo stesso hanno fatto anche i 5 Stelle per dare pari dignità a tutti i comuni che siano stati zona rossa per almeno 30 giorni. Motivazioni condivise da Palazzo Chigi, che rilancia e fa sapere che i fondi saranno superiori ai 200 milioni inizialmente previsti. Correzione di rotta dopo il pressing bipartisan dei governatori, con quello del Veneto Luca Zaia, centrodestra, che aveva parlato di decreto offensivo da gettare nel cestino e minacciato il ricorso al tribunale, protestando per un testo cambiato con una sorta di errata corrige, con una nuova pubblicazione in gazzetta ufficiale. Edurro era stato anche il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, PD, che aveva definito la scelta di limitare gli aiuti a Lombardia ed Emilia Romagna incredibile e sconcertante. C'è un colpo di scena che riguarda Atlantia, riguarda Autostrade, riguarda i benettoni, insomma la società concessionaria di Autostrade, perché in buona sostanza il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha espresso forte preoccupazione per le dichiarazioni rilasciate mercoledì da un esponente del Governo, a quanto pare il Ministro delle Infrastrutture, secondo le quali alla controllata ASPI, Autostrade per l'Italia, dovrebbe essere precluso l'accesso alla garanzia pubblica. Affermazioni, peraltro, contrastanti con lo spirito e il dettato del decreto è basata piuttosto su valutazioni e criteri di natura ampiamente discrezionale e soggettiva verso chi sta dando un importante contributo allo sviluppo infrastrutturale del Paese e il CDA di Atlantia ha dato mandato ai suoi legali di agire. È una materia, come si sa, molto spinosa e porta con sé sempre dietro l'ombra del crollo ormai 20 mesi fa del ponte di Genova. Ma ieri mattina, ne abbiamo parlato ampiamente con il protagonista, ieri sera nel telegiornale si è sfiorata la rissa, ma soprattutto c'è stato il punto più difficile nel rapporto tra maggioranza e opposizione alla Camera. Il giorno dopo ci sono prove tecniche, anche per alcune delle cose che abbiamo sentito di inizio di dialogo, perché è evidente che non se lo può permettere nessuno, né nella maggioranza né nell'opposizione. La rissa alla Camera di ieri tra 5 Stelle e Lega sulla sanità lombarda ha fatto passare in secondo piano l'apertura del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a una fase 2 del Governo, superata la prova della sfiducia a Buonafede con i voti fatti pesare e penare fino all'ultimo di Italia Viva. La pace siglata con Matteo Renzi è passata da un ampio riconoscimento politico di Palazzo Chigi, della centralità numerica e programmatica della quarta forza di governo dopo il Movimento, il PD e prima di Leu. Oggi l'ex Premier rivendica il successo. Ora si passi dalle parole ai fatti, chiede Renzi. È importante che Conte abbia riconosciuto l'importanza del piano sciocca delle infrastrutture, del Family Act, del tavolo sulla prescrizione e delle altre nostre battaglie di questi mesi. Non esistono altre maggioranze, fa ecco il Partito Democratico, senza più evocare minacciosamente come unica alternativa al Governo giallorosso quella del ritorno alle urne. Conte ha invece ridimensionato quella che nell'intervista al Foglio di ieri sembrava una mano tesa alle opposizioni. Non ha mai parlato di un patto, ci ha tenuto a precisare Palazzo Chigi. C'è il dovere di dialogare, ma nel merito, in Parlamento, dice Conte, sui decreti da convertire, ultimo quello rilancio. E del resto ogni clima di dialogo più ampio sembrava cancellato dallo scontro durissimo di 24 ore fa nelle aule parlamentari, con ragioni ribadite dal deputato 5 Stelle Riccardo Ricciardi e dal blog del Movimento che lo difende. Ha solo ricordato la verità sulla sanità lombarda, dicono i 5 Stelle, e come il Governo nazionale è responsabile del Paese e deve rispondere agli italiani delle proprie azioni. Così anche la Lega è responsabile del Governo della Lombardia e deve rispondere ai Lombardi non solo delle proprie azioni. E tuttavia i pontieri tra maggioranza e opposizione sembrano ancora al lavoro, come Giancarlo Giorgetti che ammette di essersi inabissato in questo periodo perché le polemiche non vanno bene e pensa che l'intervento di Ricciardi possa essere un attacco premeditato per guastare quel clima di collaborazione chiesto dal Presidente Mattarella, ma intravisto dal numero 2 della Lega anche nell'intervento molto istituzionale in aula ieri del Presidente Conte. Avverte, Giorgetti, che c'è il rischio di una rivolta sociale di fronte alla disperazione del Paese e che una pressione dall'esterno potrebbe indurre la politica a proposte di collaborazione se non a un Governo di unità nazionale. Toni, quelli di Giorgetti, ben diversi da quelli del leader Salvini e più vicini a quelli di Silvio Berlusconi, che ridimensiona un atto simbolico, la partecipazione di Forza Italia alla manifestazione di piazza indetta da Salvini e Meloni per il 2 giugno. Come opposizione siamo disponibili ad aiutare il Governo e stiamo lavorando, dice il Cavaliere, agli emendamenti e al decreto rilancio. Riguardo a fase 2, si è smentito da parte dei difonti del Ministero della Sanità che ci sarà la fase in cui si potrà passare da regione a regione, a fase del 3 giugno, così almeno fino ad un'estate indicata, soltanto tra regioni a pari livello di intensità di contagio. È infondata questa tesi. Sono infondate, lo dico citando esplicitamente la fonte, le indiscrezioni sulla possibilità di permettere lo spostamento solo tra regioni con pari livello di contagio. Quindi è una palla, in buona sostanza. Anche perché, peraltro, in tutte le regioni le cose cominciano ad andare bene. Per conoscere gli effetti delle ultime riaperture bisognerà aspettare sette giorni vigilia del prossimo fine settimana, ma intanto le notizie che arrivano dall'Istituto Superiore di Sanità sono buone. Nonostante il Paese viaggia ancora a tre velocità, dice il Presidente Brusaferro, l'indice di contagio è in calo ovunque, sotto l'1%, compresa la Lombardia, che anche oggi segna il numero più alto di positivi, 293, ma con mille guariti in un solo giorno. C'è un'unica eccezione nei dati settimanali, la Valle d'Aosta appena sopra la soglia, con l'1,06, valore che nella media degli ultimi dieci giorni era però allo 0,5. Ma è lo stesso Brusaferro a spiegare che quel valore oscilla molto, può dipendere da un solo e limitato focolaio, come è successo la scorsa settimana per Umbria e Molise, allarmi subito rientrati dai numeri molto contenuti. L'importante, sostiene il Presidente, è la capacità del Sistema Sanitario Nazionale di intercettare le crescite dei contagi e circoscriverle come già accaduto. Significa che il sistema di monitoraggio funziona e serve proprio a questo, non per suscitare facili polemiche, dice Brusaferro. Non è una pagella. A me spiace molto aver letto, devo dire, interpretazioni, diciamo, con pagelle promossi, bocciati, oppure con possibili corridoi aerei, immagino, tra regioni con codici diversi. Non è questo il tema. Non è questo il tema. I dati, se uno guarda bene i dati, il tema è un sistema di attenzione, è un sistema che aiuta il livello locale ad intervenire tempestivamente. Non è un giudizio. Anche perché, spiegano gli scienziati, l'RT non può essere l'unico criterio per decidere gli spostamenti tra regioni, appuntamento atteso per il prossimo venerdì, quando si conosceranno i nuovi dati. Le cifre, intanto, raccontano di un paese dove crescono gli asintomatici, ma non è una cattiva notizia. Significa che si fanno sempre più tamponi e, di conseguenza, si è in grado di individuarli. E soprattutto non sono pazienti gravi che necessitano di terapie intensive sempre meno utilizzate. Oggi sono scese sotto quota 600. Ma l'Istituto Superiore di Sanità mette in guardia. Ancora circola il virus da noi. Questo è l'altro messaggio importante. Anche se in calo, ma circola. E quindi, in realtà, non possiamo permetterci di allentare le misure di comportamento individuale. Non viene escluso che la prossima settimana i contagi possano aumentare, ma rassicura l'Istituto. Il sesama sanitario è testato e pronto a reagire. Mentre il mondo riscopre la possibilità di uscire, mentre il lockdown finisce zona per zona, a livello internazionale, però, le diplomazie riscoprono incistati i vecchi problemi. E nuove tensioni arrivano da due lembi opposti dell'Asia. Da Hong Kong e dal difficilissimo, da sempre, rapporto tra Iran e Israele, che adesso, però, è a livello verbale al punto più pericoloso. Partiamo da Hong Kong. Si alzano i toni dello scontro su un nuovo fronte, quello di Hong Kong. La Cina si appresta ad introdurre una nuova controversa legge sulla sicurezza, con l'evidente obiettivo di bloccare sul nascere nuovi possibili movimenti secessionisti, come quello che ha bloccato per mesi l'anno scorso l'ex colonia britannica, protettorato cinese, dal 1997. Nella bozza che l'Assemblea nazionale del popolo, la più alta istituzione cinese, è riunita da ieri dopo il blocco imposto dal coronavirus, vorrebbe introdurre per promulgazione, quindi senza passare per le istituzioni locali, si fa un chiaro riferimento anche ad ingerenze straniere da evitare in tutti i modi, con l'ausilio di agenzie di sicurezza sul territorio, in particolare saranno vietati atti di sedizione, sovversione e secessione. Insomma, la fine dell'autonomia di Hong Kong e delle manifestazioni. Da Washington Trump ha minacciato una reazione molto forte contro la Cina, posizione ripresa oggi dal segretario di Stato, Mike Pompeo, che ha definito la proposta di legge sulla sicurezza una campana a morte per Hong Kong. Dichiarazione che chiaramente ha profondamente irritato Pechino. È un affare interno, ha detto il portavoce del ministro degli esteri, Zhao Lijian. Nessuno ammetterebbe separatisti sul proprio territorio. La Cina è pronta a contrattaccare, aprendo un nuovo delicato fronte con gli Stati Uniti dopo la disputa su Taiwan, che Pechino ha fatto di tutto per tenere fuori dall'ultima assemblea dell'OMS. Anche l'Unione Europea esorta la Cina a rispettare l'autonomia di Hong Kong. In una nota, l'alto rappresentante per la politica estera Borrell chiede l'apertura di un dibattito democratico. Il timore è che possano tornare le dimostrazioni di piazza e la manifestazione di oggi sotto la sede del governo cinese a Hong Kong potrebbe essere solo un primo assaggio. E poi, appunto, tra Iran e Israele, parole che in qualche modo fanno spirare venti di guerra. Parole che sembrano tornare da un lato Teheran ai tempi di Ahmadinejad e dall'altra Israele ai tempi più duri delle guerre minacciate. Passata la fase più acuta dell'emergenza pandemia, le croniche, tensioni in Medio Oriente tornano a galla e lo fanno attraverso le invettive minacciose contro Israele della guida suprema iraniana la Yatollah Khamenei. L'assenza delle tradizionali manifestazioni causa Covid-19, infatti, non ha impedito alla massima autorità della Repubblica Islamica di attaccare violentemente lo Stato ebraico in occasione del suo discorso per quella che in Iran, dal 1979, è la giornata di Al-Quds, nome arabo di Gerusalemme, introdotta da Khomeini a sostegno della causa palestinese. Khamenei ha definito Israele un virus, un cancro da estirpare, il jihad e la lotta per liberare la Palestina sono doveri islamici, ha aggiunto, per poi ammettere esplicitamente che Teheran arma Hamas jihad islamica e invitare i gruppi jihadisti a espandersi nelle terre palestinesi. Minacce, non certo nuove, ma che arrivano in un momento di accesissimo scontro e di totale stallo nei colloqui tra israeliani e palestinesi, con il nuovo esecutivo composto da Likud, del premier Netanyahu e da Blu Bianco dell'ex capo di Stato maggiore della difesa Benny Gantz, pronto all'annessione di una parte dei territori occupati in Cisgiordania, come peraltro previsto dal piano di pace proposto dagli Stati Uniti nel gennaio scorso e respinto dai palestinesi. Due giorni fa, il presidente dell'autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha annunciato la sospensione degli accordi con Israele, tra i quali quelli riguardanti la cooperazione nel campo della sicurezza. È su questo fuoco che soffia l'Iran. La risposta di Israele non si è fatta attendere a darle voce, praticamente univoca. Il premier è colui che tra 18 mesi in base ad una staffetta concordata gli succederà. Chiunque minacci di distruggere Israele si metterà nello stesso pericolo, ha affermato Netanyahu. Come chi conosce la questione iraniana molto bene e come chi ha preparato il nostro esercito in merito, suggerisco di non metterci alla prova, gli ha fatto eco Benny Gantz. Israele ha poi incassato la solidarietà dell'Unione Europea che ha definito le parole della Yatollah Khamenei inaccettabili e incompatibili con l'obiettivo di garantire che la regione sia stabile e pacifica. Il problema è che proprio stabilità e pace appaiono in questo momento, quanto mai lontane. E infine per lo sport, l'addio a un gentiluomo, a una figura mite che ha attraversato praticamente mezzo secolo del calcio italiano. Addio a Gigi Simoni. Se siamo mediamente fortunati, nella nostra vita riusciamo a conoscere diverse persone per bene. E spesso le portiamo con noi, sempre rannicchiate in un angolo del nostro cuore, accomunate dalla stima e il rispetto. Bene, Gigi Simoni è lì e ci rimarrà per sempre. Se ne è andato a 81 anni, dopo quasi un anno di sofferenza e assenza, per un grave ictus che lo aveva colpito nel giugno del 2019. Se provate a leggere i messaggi arrivati dal mondo del calcio, ci trovate soprattutto due cose. Uomo vero e persona per bene. Certo, ma anche un allenatore che per 37 anni ha portato il suo modo di essere attraverso un calcio sempre più intollerante verso la pacatezza e la ragione. Nel 75 la prima panchina fu quella del Genoa, ma anche Brescia e Cremona nel corso del tempo hanno inciso un solco significativo nella sua carriera. Ma il punto più alto lo ha vissuto all'Inter. Era l'Inter di Massimo Moratti e di Ronaldo, il fenomeno, quello vero come molti amano precisare. E fu allora che riuscirono persino a farlo imbestialire quando in piena lotta a Scudetto durante un Juventus-Inter nell'aprile del 98 a Torino si verificò il famoso episodio della mancata concessione di un rigore per un fallo di Giuliano su Ronaldo. L'arbitro Ceccarini lasciò correre e Simoni protestò con vemenza prima di essere espulso. Ma con quell'Inter si rifarà pochi giorni dopo, vincendo la Coppa UEFA a Parigi, battendo in finale la Lazio per 3 a 0 con i gol di Zamorano, Zanitti e Ronaldo. E a proposito di Ronaldo, a nostro avviso le parole più belle dopo la scomparsa di Simoni sono arrivate dal campione brasiliano. Gigi Simoni per me non è stato solo un allenatore. Se oggi penso a lui, penso a un uomo saggio e buono che non ti ordinava di fare le cose, ma ti spiegava perché quelle cose erano importanti. Penso a un maestro come in questa foto che facevamo a Natale, lui direttore e noi l'orchestra. Lo ricordo così, con quel sorriso. La sua voce sempre calma, i suoi consigli preziosi. Potevamo e dovevamo vincere di più, ma abbiamo vinto insieme, la cosa che ci raccomandava sempre. Grazie mister, mi hai insegnato più di quanto immagini. Ci fermiamo. Eccoci, vediamo nel finale come sempre come ha chiuso l'ultima seduta della settimana la Borsa di Milano più 1,34% l'ultimo indice Fuzzi-Mib con lo spread che scende a 209 punti base e in questo momento a Wall Street la situazione è contrastata ma vicino alla parità meno 0,20 Dow Jones più 0,35 in Nasdaq è tutto Gruber, Zoro. Ci vediamo domani sera. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.